Da 310 a 269 questo è il pesante taglio che vorrebbe fare la giunta agli stalli per gli ambulanti della prossima fiera di San Pietro. L'intenzione nasce da diverse concause, certamente la crisi che si è manifestata con diversi posti vuoti nelle ultime edizioni, in primis quella dell'anno scorso, certamente anche nei nuovi gusti, per così dire, delle generazioni che prediligono un altro genere di shopping, ma non va trascurata nemmeno la difficoltà in ambito burocratico che gli ambulanti devono affrontare per aderire a questo tipo di eventi e che hanno messo in crisi uno dei più classici tra gli appuntamenti estivi cremonesi. 41 spazi in meno sono tanti e balzeranno sicuramente all'occhio, 235 saranno i posti disponibili per il settore non alimentare, 29 quelli del settore alimentare, 4 riservati alle associazioni di volontariato, 1 per i produttori agricoli. Vedremo se la nuova formula potrà essere, se non apprezzata, almeno più funzionale. Grazie.